C'è stata una risposta popolare forse senza precedenti in occasione della morte di Pino Daniele, solamente per i più grandi è accaduto qualcosa di simile con Totò, con Massimo Troisi, con Edoardo, con Pino c'è stato un qualcosa poi di unico, due raduni incredibili, il flash mob a Piazza Prebiscito e i funerali all'aperto organizzati in 7 euro, una grande partecipazione popolare, credo il modo migliore quando le cose sono spontanee per comprendere quanto Pino Daniele sia in ognuno di noi e anche oltre Napoli perché gli attestati sono venuti da tutto il mondo, la sua musica è diventata internazionale, si è contaminata con i più grandi del mondo e negli ultimi anni era ritornato il Pino delle origini, molto napoletano, con il sound dei suoi colleghi iniziali, tanti artisti, alcuni saranno qui stamattina, altri stasera al Palapartenome. Avrebbe compiuto 60 anni oggi Pino Daniele se il suo cuore non si fosse fermato il 4 gennaio scorso e stamattina nel maschio Angioino è cominciata la lunga giornata dedicata a lui, nella quale il sindaco di Napoli ha consegnato ai familiari del grande artista i libri con le migliaia di dediche raccolte nei giorni in cui le ceneri di Pino Daniele sono state esposte nel castello, oltre ad una targa con la medaglia della città a Francesco, il più piccolo dei figli di Pino Daniele. E si sta preparando inoltre l'appuntamento di stasera, il concerto gratuito alle 21 al Palapartenope intitolato Io sto vicino a te, che vedrà sul palcoscenico numerosi musicisti ed artisti che hanno voluto rendere omaggio a Pino. Le nostre vite, le nostre storie si intrecciano in modo indelebile con la musica di Pino, in quei libri ci sono frasi, appunti e pensieri di tanti fan di Pino e quindi metterli insieme in due tomi è stata una bella cosa, rimangono per sempre nella storia della famiglia di questa città e della musica. L'intestazione della piazza che abbiamo già deliberato in commissione toponomastica, quindi adesso attendiamo l'autorizzazione del prefetto perché c'è la deroga di 10 anni nel centro storico vicino al luogo in cui è nato Pino, poi tantissime altre iniziative, concerti, stiamo lavorando su una unica e straordinaria mostra fotografica da fare entro l'anno e poi tante iniziative non solo del comune perché vedo partecipare scuole, fondazioni, associazioni, artisti. Grazie.